Dai, Marco! Non segna come di Ballen Champions Dai, Marco! Ma sei scemo allora! Siete quasi tutto assurdo! Guarda! Dai, ragazzi, che dobbiamo vincere! Ma secondo te la febbra era per chi guarda la voglia, ma sai sì! Bravo! Iiii! 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 La dacu! La dacu! guarda 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 tre ce ne abbiamo ma non ne bastano alcuno non 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 voi volete questa scocchietà stiamo sbagliando tanto non 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 segna con numero 8 il capitano Marco 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 Grazie.